Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale La banda dell'abbraccio fatale in fuga adesso è di nuovo in circolazione e potrebbe colpire ancora Ecco le immagini esclusive di tre lupi avvistati nelle campagne di Cardoceto Noi abbiamo del bestiame che senza lo che li fanno un macello Fano dice no al gioco d'azzardo Sabato la firma del manifesto dei sindaci per la legalità Sanità, la struttura di dermatologia lascia a muraglia di Pesaro e si trasferisce al Santa Croce di Fano Albero da Guinness a Monbaroccio disegnato dai bambini nella via principale del paese Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia lo avete sentito dai titoli potrebbero essere ancora in circolazione nelle Marche i tre Romo un uomo di 24 anni e due donne di 22 anni arrestati nei giorni scorsi a Mondolfo dopo aver rubato a una signora 62enne un cogliedoro con la tecnica dell'abbraccio e il copione è sempre lo stesso si avvicinano ad anziani o soggetti fragili e con la scusa di salutarli come vecchi conoscenti li derubano di collane, orologi o denaro dopo la convalida degli arresti i tre avrebbero dovuto trascorrere un periodo di detenzione domiciliare a casa di un parente a San Casciano Valdipesa, a Firenze ma non sono mai arrivati a destinazione le loro foto in compenso sono state riconosciute da numerose persone a Chiaravalle, Genga, Saltara, Marotta e Montecchio secondo i carabinieri è velo simile che la banda sia ancora in zona ed il pericolo che ci possano essere ulteriori abbracci e quindi rapine è concreto e adesso ci spostiamo nelle campagne di Cartoceto dove sono stati avvistati tre lupi nel prossimo servizio vedrete un video in esclusiva e sentirete le testimonianze che ha raccolto per noi Lino Balestra Qualche giorno fa sono stati avvistati dei lupi che transitavano qui la cosa vi preoccupa? Avete notato dei segni? Qualcosa della loro presenza? Ma in modo diretto no io di colore età non ho visto niente ho visto i caprioli qualche mese fa quelli erano anche carini erano da qualche mese ho sentito anche i vicini ma anche qui da noi che qualche gatto ha avuto dei problemi da parte di animali non cani o cose del genere ma sicuramente animali più grossi ecco questo l'ho sentito In questi giorni anche ieri sera avete visto dei lupi siete preoccupati per questa cosa? Tantissimo perché noi abbiamo del bestiame che se entrano quelli lì fanno un macello tant'è vero che la settimana scorsa lì nel vicino qua sono entrati almeno sicuramente solo loro hanno fatto una strage di capri io mi auguro che da me non entrino perché se entrano da me fanno un disastro dopo se non faccio la buca ai lupi la faccio agli animalisti perché fanno pubblicità che sta piena di salute ma quando noi ci abbiamo mangiato tutto il bestiame chi ci pari i danni? Quanti capi avete? Noi abbiamo sui 600-700 capi qui di Ocche quando saranno tutte non so chi deve intervenire ma io anche stanotte ho fatto un giro con la macchina perché sa questi costano i soldi sia per comprarli sia per rallevarli quando sono entrati che fanno qui riservano fanno un macello poi puliscono fanno pulire sicuramente vengono giù dal monte perché sappiamo benissimo che qui 15 giorni fa hanno visto le pedate che hanno fatto la fuga a un cinghiale qui sotto cartucito praticamente sono levati un po' dappertutto io non li ho visti per dire la verità ci sono i cani di notte che abbaiano ma altre cose non ho visto avete animali? si bestiame d'arrivo a me bovine tante cose in stalla comunque hanno detto che ci sono io non li ho visti per dire la verità ma dopo non lo so perché sono un po' urbino si vanno a vedere tre lupi erano abbastanza grossi il problema qui è solo che non si campa più questa cosa dei lupi che sta diventando sempre più seria e qua di sotto uguali hanno aumentato le capre pericolose per i bambini e tutto qua la struttura di dermatologia lascia lo stabilimento ospedalero a muraglia di Pesaro e si trasferisce a Fano da lunedì 9 maggio sarà operativa la nuova sede all'ospedale Santa Croce al primo piano del padiglione C una sede rinnovata con tre ambulatori dedicati alla dermochirurgia alle visite dermatologiche ai nevi tre medici spiega Antonio Genga responsabile dell'unità operativa si alterneranno in altrettanti ambulatori con un aumento dell'attività sia chirurgica che ambulatoriale un aumento che produrrà una riduzione dei tempi di attesa e il comune di Fano dice no al gioco d'azzardo con nuovi regolamenti e con progetti di prevenzione 91 casi trattati in provincia dal servizio per le dipendenze patologiche dell'area vasta 1 per gioco d'azzardo patologico 14 a Fano 46 a Pesaro 19 a Urbino e 12 a Fossombrone ma il dato rappresenta una punta dell'iceberg dato che chi arriva a rivolgersi al CERT è ormai in condizioni disperate ma chi sono le persone che maggiormente vengono prese nella spirale del gioco compulsivo? mediamente la fascia d'età media quindi tra i 40 e i 50 il sesso è maschile le condizioni economiche di base della famiglia sono buone quindi non sono né altamente indigenti né altamente ricchi quindi sono il CETO medio sostanzialmente il CETO medio per cui per quello che riguarda la patologia di cui noi abbiamo notizia e che trattiamo possiamo dire che non è motivata dal bisogno economico ma sostanzialmente motivata da disagi malattie sofferenze disturbi della personalità o del nucleo familiare che trovano nel gioco una delle tante uscite per canalizzare il fastidio che si vive siamo sul piano sociale a livello di allarme dato che il gioco d'azzardo è la terza industria italiana in termini di fatturato con una crescita annuale che ha sfiorato il 30% si calcola che vi sia una macchinetta ogni 145 abitanti la giunta comunale di Fano ha deliberato nella seduta di ieri l'adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo attraverso la quale i sindaci sottoscrittori chiedono interventi normativi a livello nazionale e regionale e che sia consentito loro il potere di ordinanza e che sia richiesto ai comuni e alle autonomie locali il parere preventivo per l'installazione dei giochi d'azzardo anche Fano aderisce al manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo questo è un fenomeno è stato richiamato anche in questi giorni in più occasioni che magari non appare non si manifesta ma che coinvolge molte persone poi sono situazioni tragiche e allora chi ha delle responsabilità come le nostre come un sindaco non può non vedere questi fenomeni e ci si deve attrezzare si sta lavorando e questo non lo specifico lo sta facendo l'assessore Cecchetelli su un regolamento da adottare che porteremo presto in consiglio comunale che rivedrà proprio le misure e le regole per l'utilizzo delle slot machine e di altre forme di gioco d'azzardo nel nostro territorio e quindi questo è al vaglio anche insieme alle associazioni con anche dei benefici delle premialità per chi deciderà di non adottare di non avere le macchinette al proprio interno e lo stesso ecco le altre misure sono legate sostanzialmente anche alla prevenzione la prevenzione nelle scuole diventa un punto di forza per riuscire ad aiutare i ragazzi ad avere maggiore consapevolezza dei fattori di rischio ma sicuramente cercando di agire anche nei luoghi di lavoro nei luoghi di incontro di persone di mezza età si intitola contro l'antimafia ed è l'ultimo libro di Giacomo Di Girolamo che verrà presentato domani a Fanno sotto i portici Gabuccini nel libro lei si rivolge anche al boss più potente di Cosa Nostra che è ancora in libertà qual è il suo messaggio? io scrivo a Matteo Messina Danaro una lettera diversa rispetto alle altre che gli ho scritte insomma è un dialogo in interrotto quello tra me e il boss ed è una lettera di resa amara senza appello perché secondo me la stagione della lotta alla mafia è finita l'antimafia oggi non ha più senso si è risolta in uno sterile parlarsi addosso e vuota di contenuti e preda della retorica anche più più sciatta e in questo clima e in questo contesto è facile che si aggirino affaristi gente senza scrupolo tutto un popolo di partite IVA che lavora grazie ai progetti sulla legalità o che fa dittatura di parola come memoria parole importanti come la memoria e soprattutto in questo contesto non solo ci sono i profittatori ma anche la complessità del fenomeno mafioso oggi si è persa di vista e però non ha mai avuto paura detto di schierarsi dalla parte di chi si oppone alle mafie ora questo libro comincia con una frase terribile che io non ho mai avuto paura adesso sì e la parola è di soridentamento di non sapere chi hai attorno chi hai accanto chi sta lottando perché lo sta facendo di non aver compreso molto e di non aver soprattutto voluto comprendere che è ancora più grave parliamo invece degli appuntamenti che si svolgeranno sabato 7 maggio nella città della fortuna e saranno ben due sì doppio appuntamento perché parleremo di libreria nel pomeriggio contro l'antimafia e poi la sera ci sarà invece un reading di Dormono sulla collina che è il mio libro precedente e quindi la sera a teatro faremo uno spettacolo con alcuni pezzi del libro un piccolo monologo insomma sull'attenzione sulla meraviglia e dei momenti musicali ci sarà divertirsi spettacolo per tutte le famiglie e il comitato Pacassoni avanti con i carri nato di recente oggi ha presentato le sue idee e i progetti per rilanciare il carnevale di Fano avvicinare i giovani al carnevale e valorizzare il ruolo dei carri allegorici sono solo alcuni degli obiettivi del comitato Pacassoni avanti con i carri a distanza di poche settimane dalla conferenza stampa in cui si sono presentati alla città i componenti iniziano a mettere in campo i dei progetti per rilanciare la tradizione e la creatività della manifestazione più antica e importante della città il carnevale di Fano riportare soprattutto i giovani io ricordo che da ragazzini noi andavamo al carnevale ci si metteva in cerchio si prendevano le caramelle quindi era molto frequentato dai giovani adesso è molto meno frequentato non so mio figlio ultimamente mi dice mamma io non ci vengo al carnevale a noi non ci interessa è a 18 anni perché non gli interessa questa è una domanda che secondo me ci dobbiamo porre quindi eventi per i giovani quindi eventi per i giovani feste, concerti magari una collaborazione con la Romagna è vero si sono molto ampliate le tessere e onore a chi lo ha fatto 1700 tessere sono tante rispetto al passato però siamo 60.000 abitanti e 1700 su 60.000 è niente perché anche questa è una domanda che secondo noi ci dobbiamo porre un altro punto fondamentale per il comitato è quello di riportare i carristi al centro dell'evento tenendo in considerazione l'alto indice di gradimento manifestato dall'agente ed emerso da un'indagine promossa dall'ente carnevalesca inoltre per informare la cittadinanza sui progetti e raccogliere suggerimenti e adesioni il comitato sarà presente il lungo corso Matteotti anche sabato 7 maggio il carnevale non è della carnevalesca non è dei carristi è della città quindi non vogliamo proporre un carnevale preconfezionato quindi no di qualcuno ma un carnevale dove tutti i cittadini di Fano appunto riaffezionandoli possono partecipare con il loro contributo con la loro esperienza quindi non ci sono lotte non ci sono poltrone ma c'è la volontà nostra di insieme lavorare per far crescere una manifestazione che può diventare veramente un volano importante per Fano dato che io riguardavo le prime partecipazioni della mia famiglia a Rina cioè risalgono proprio al dopoguerra il primo carro che mio babbo ha fatto è nel 1945 45 46 quindi veramente c'è una storia ci sono le vite delle persone quindi è questo che vogliamo e adesso passiamo allo sport e parliamo di vela perché Giacomo Giovanelli atleta del club nautico fanese parteciperà al campionato mondiale assoluto 2016 Giovanelli ha infatti ottenuto brillanti risultati ad inizio stagione con due primi post alle regate di Anzio e Castiglione della Pescaia torniamo a parlare della Colle Marathon invece perché da domani pomeriggio sabato 7 maggio Marina di Cesari di Fano sarà teatro della festa a meno di 24 ore dal via previsto a Barchi domenica mattina alle ore 9 l'area di arrivo è già pronta ad accogliere circa 1200 corridoni sin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile ritirare il pettorale alle 17.30 una santa messa del maratoneta celebrata da frate runner Claudio Pantaleo proseguono intanto le prove dei gruppi che animeranno lungo il percorso la Maratona delle Marche che passerà per Mondavio Orciano San Giorgio Piagge Cerasa e San Costanzo a Monbarocci invece ben 200 bambini i gessetti alla mano hanno disegnato un albero da Guinness bastano 200 alunni armati di qualche chilo di gessetti colorati un bel corso dritto e l'occasione giusta gli alunni sono quelli dell'istituto comprensivo Pirandello il corso è via Guido Baldo del Monte a Monbaroccio e l'occasione giusta è la festa degli alberi che sabato e domenica prossima animerà lo splendido borgo questa mattina dalle 9 in poi da Porta Maggiore a Piazza Barocci era una festa in piena regola dove ogni bambino colorava il suo pezzetto di selciato con grande impegno artistico obiettivo? realizzare un albero da Guinness dei Primati siamo saliti sulla terrazza del comune di Monbaroccio per offrirvi una panoramica migliore una visuale ideale di quello che sta avvenendo nel corso principale dove 200 bambini stanno dando il meglio di loro stessi con gessetti alla mano per creare questo albero così lungo oltre 190 metri che nella speranza degli organizzatori dovrebbe tentare il record del Guinness dei Primati quest'anno con una nuova location una nuova situazione l'albero più lungo da Guinness dei Primati direi che è quasi ultimato quindi 194 metri come avevamo promesso nei comunicati stampa stanno quasi per finire quasi tutto fatto direi un bel evento grazie all'istituto Pirandello di Pesaro grazie alle insegnanti di Monbaroccio degli istituti di Monbaroccio della scuola primaria secondaria e della materna che oggi si sono dedicati qui nel paese per rendere bellissimo questo paese d'altronde si sa ai bambini basta dare dei colori da usare e il divertimento è assicurato soprattutto quando possono dare libero sfogo alla loro fantasia ti stai divertendo? si molto che cosa avete fatto qui? abbiamo usato dei gelsi per costruire un grande albero cuori e tanti rami con diversi colori per fare diverse nazionalità cosa è per te l'ambiente e la natura? per me è una cosa che deve vivere vivere la natura bisogna conservarla così com'è? si è importante? si perché gli alberi ci danno lo? l'ossigeno che è utile per? ispirare per vivere una giornata che oltre che divertente è anche didattica quella che ha dato il via ufficioso al rinnovato evento di quest'anno sotto gli occhi vigili di chi di natura e alberi se ne intende veramente i bambini i giovani sono il futuro e quindi se c'è un ambientalismo che vale la pena di essere vissuto è proprio un ambientalismo che coinvolga come protagonisti i giovani e i giovanissimi come questo oggi hanno fatto qui a Monbaroccio apertura ufficiale domani pomeriggio quindi dalle 15.30 in poi espositori laboratori creativi per grandi e per piccini e nella mattinata un convegno alle 10 nel teatro di Monbaroccio sul rinascimento protagonisti anche qui gli alunni della secondaria di primo grado Barocci e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti